Where do you find this? Oh, intanto mi perdiamo il premio Questo sarà l'ultimo video A meno che Sottolineo A meno che Questo video non raggiunga 20 like Sarà difficile Spero di aver attirato qualche persona Che di solito non guardava I video di YouTuber's Life Col titolo Chiudo il canale Non so se sia servito a qualcosa Però di sì Raga, se a voi piace YouTuber's Life Cercate di mettermi dei like E cercate di far mettere dei like A vostri amici Se no non funziona Cioè, se no È finita E niente più YouTuber's Life Perché Raga, spero che la webcam Sia di vostro gradimento Non la metterò da un po' di tempo Cioè, sei mesi Intanto questo dorme E vediamo un po' cosa devo fare Devo fare un video Ok, devo fare un video Come faccio un video? Qua faccio un video You game video Ce li ho i giochi? Sì, me li sono portati dietro Mica, ciao Quindi ragazzi Mi raccomando Lasciate un mi piace Poi ora parliamo anche di un'altra cosa Allora, ho fatto un canale Telegram Che cazzo è un canale Telegram? Allora, in questo canale Ovviamente Ovviamente voi dovrete Allora, aspettate Ok, così va bene Ovviamente il canale serve a questo Voi potete seguire il canale E potete leggere qualsiasi cosa io scriva È una figata assurda Perché serve più che altro Perché ad esempio Io ora ultimamente Mi trovo sui server da solo Non so chi cazzo ci sia Vado in giro sui server E non so che cazzo fare Dato che ho perso la mia vecchia crew Per vari motivi Perché Per vari motivi L'ho persa Non approfondiamo Sto facendo il video qua Bello sciallo Allora, ho perso la crew Per vari motivi Quindi quando mi ritrovo sui server da solo Un po' una rottura di coglioni Quindi se qualcuno Volesse farmi compagnia sui server Perché ha intenzione Gli piace fare video Vorrebbe fare un video con me Non lo so Quello che cazzo volete È ben accetto Sul Su sto coso qui Trovate il link in descrizione Ovviamente Cosa metto Mettiamo Questo Vediamo 115 224 Quindi ragazzi Siete tutti invitati Lì sul canale Telegram Seguitemi su Telegram Perché dirò tante cose Dico cose divertenti E ora Vorrei anche iniziare La nuova serie Solo che mi serve gente Con cui fare la serie Quindi se si è Work Your home Com'è che studio Ok Allora qua ci faccio i corsi Fighi Com'è che studio Qua mi cambio Probabilmente Ti faccio i gaming video Non vado più a scuola Cos'è Non vado più a scuola 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 Non ci credo Eccezionale It It Non vado più a scuola È bellissimo Cosa vuole il limite Che non c'è il limite Che allora posso non germi sempre il pane Vivremo di pane e acqua Ok Andiamo quindi a workare Posso lavorare 12 ore Wow No No Dio a lavorare 8 ore Però stess Vai vai Chi è questo What's up I came to play for a while Che cazzo vuoi tu Mi ha hackerato il computer Mi ha hackerato il computer Non ci credo Ok Allora Raga lasciate un like Continua a dire Seguitemi su telegram Lo dico perché sono È figo C'è Da guarda che c'è sto video Vabbè sta andando decentemente Ora potrei iniziare a spendere soldi Sleep Non avevo dormito tipo poco fa Oh si va a vedere un film Figo vai Ok Siamo venuti al cinema Da soli Andiamo a farci fare le foto come la scorsa volta Vi ricordate la scorsa volta quando abbiamo al cinema con Cassandra? Posiamo per la stampa Mi dimentico sempre che ho la webcam Ora è strano perché da un po' che non la mettevo Ok devo andarmene Dov'era più l'entrata per il cinema? Intanto poi ci dobbiamo provare con qualcuno Dentro al cinema No non lo so Dov'era che si entrava? Non mi ricordo più raga Intanto abbiamo 2096 subscribers in alto a destra Non so se l'avete notato 18.000 visual Non so come faccia Ok sta qua mi sembra una tipa Sediamoci a fianco alla tipa Parliamo con Christine Chi è Christine? Non ho idea ma ci tolgo per tutto il film Intanto vorrei vedere un po' il film No ho sbagliato Com'è che si tira giù? Com'è che si tira giù? Com'è che si tira giù? No è finito È finito il film Non l'ho visto neanche 20 secondi Vabbè pazienza Capita a volte quando si va al cinema E si parla con Christine Ok devo fare un altro video Vero ce l'ho New gaming video Ormai che bello Non vado più a scuola Devo comprarmi giochi nuovi ora Ora facciamo Facciamo un gioco figo Facciamo League of Giants No quali sono i video che mi piacciono di più? I giochi non ce n'è qua Porca miseria Facciamo League of Giants E poi lo compriamo uno No lo compriamo ora Lo compriamo ora Go shopping Guardi sto L'ho a 64 Vediamo cosa ci esce con 64 Quello che è Idea Clothing shop All consoles and mobiles Amazing on Questo voglio questo Perché è in salita Non so che cacchio voglia dire questo The Incredible Kong Ho comprato l'Incredible Kong È un bel gioco Me lo sento Cazzo ma Game toy Io ce l'ho il game toy Vero? Ce l'ho il game toy Vero? No il mantendo C'ho Oh cazzo È già arrivato perché sono già passate quattro ore Open Non posso Cazzo l'ho comprato a fare Ma sono una merda sono Ah no eccolo The Incredible Kong Gameplay Start video Anzi no facciamo la first impression Qua devo appargadare tutto Sì first impression così va bene Dai Watch me play sarebbe Che bel gioco Che bel gioco Che bel gioco Incredibile Eccezionale C'è proprio lui Proprio lui Professional comment Professional comment Che cazzo ho messo? Ora professional Non mi fa fare Epic expression Ah lui però c'ha la webcam Ah ci gioco lì e poi vado qui a registro Ok Tac 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 Postarci Sì 8 Perché 8 sono diminuiti Video quality è bassa Però non è un gioco figo Su Ok devo Upgradare tutto Sto avendo dei problemi un po' con tutto Raga Cibo Cibo Sandwich E poi mi bevo un po' d'acqua Poi vediamo un po' il nostro bel calendario Allora C'è questa costa 30 Oggi è il 20 E March 17 Questo è il 21 Questo è oggi Ci andrei qua Non c'ho il costume io Porca misera Andiamo Andiamo qua Al cinema E invitiamo qualcuno Invitiamo Ehm Chi ci invito? Cassandra ci invito Vai ci attiamo con Lexi Non piace a nessuno Non piace a nessuno Sto video di merda Si stanno disiscrivendo tutti Che merda Vabbè Upgradiamo il computer Ormai Tutto a puttane Minchia costa tutto un botto Voglio il mouse figo Voglio il mouse figo Costa troppo Ok L'Incredible Konga Ha fatto cagare Però Mi ha fatto un casino Di views Era quello che volevo New game in video Proviamo a farci un video Che non è di È un gameplay Anziché first impression Allora ragazzi Direi che Mentre faccio sto video È tutto Se questo vi è piaciuto Dovete lasciare un mi piace Se volete che la serie continui Iscrivetevi con Merda Condividete E noi ci vediamo Nel prossimo video qua Su Spero che ci sia un prossimo video Perché a me piace un casino Sto gioco Ve lo dico Ci vediamo nel prossimo video Di youtubers live Forse E Ormai lo devo finire Raga Finiamo Cazzo Meno 265 iscritti Ma vi rendete conti Quanto è andato male Sto video Tac 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 Però ci ho fatto i soldoni Ma che cazzo me ne frega Se il video va male Ci ho fatto i big money Io Io ci ho fatto i big money Raga fatemi fare i big money Anche se il video va male Cazzo me ne frega i big money Big money E ciao Raga